Albanesi, coach di Bluorobica. Coach, che stagione sarà quella di quest'anno? Sarà una stagione molto difficile, innanzitutto perché l'anno scorso abbiamo fatto molto bene, siamo stati un po' alla sorpresa, quest'anno non lo saremo più, tutti ci conoscono, tutti ci aspettano, quindi ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso non basterà. In più sarà molto difficile perché in Serie B siamo stati inseriti in un girone davvero di alto livello in cui ci sono 8-9 squadre che ambiscono ai play-off, se non addirittura al salto di categoria, quindi abbiamo davanti sfide difficili e numerose. Nel vostro roster avete inserito più senior, rispetto alla mission che voi avete, cioè quella di lanciare i giovani, gli obiettivi che vi siete posti quali sono? Gli obiettivi restano, è proprio lanciare e valorizzare i giovani, ci siamo resi conto che però è importante per i ragazzi sia giocare contro dei giocatori più esperti, ma è altrettanto importante imparare a giocare con. Quindi abbiamo voluto inserire due atleti d'esperienza che possano essere delle vere guide sia in campo che fuori dal campo, due grandi esempi, sia Simoncelli che Marcovi, ci sono due super professionisti di grande esperienza, due vincenti, due lottatori, quindi vogliamo che i ragazzi, oltre che opportunità di gioco e di lavoro, abbiano anche quotidianamente degli esempi a cui ispirarsi e dei giocatori forti da sfidare. I play-off saranno un'esperienza da ripetere? Lo speriamo tutti, quest'anno sarà molto, molto difficile. Come ho detto, il campionato è di altissimo livello, noi sulla carta partiamo in ultima fascia come squadra di rincorsa, dipenderà dal nostro lavoro quotidiano colmare questo gap e lottare per obiettivi importanti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.